pace e bene a voi qui presenti e a quanti sono in collegamento via internet don cordiale benvenuto iniziamo le letture per santo stefano primo martire secondo giorno di natale con il canto lodate dio lodate dio schiere beate del cielo lodate dio genti di tutta la terra cantate a lui che l'universo creò somma sapienza e splendore lodate dio padre che dona ogni bene l'odate dio ricco di grazia e perdono cantate a lui che tanto gli uomini amo da dare l'unico figlio nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo am fratelli e sorelle buongiorno dopo tutte quelle letture dell'altro ieri di ieri per il natale oggi si festeggia il primo martire della chiesa santo stefano tra l'altro noi qua di spezia siamo ancora più in festa perché chi è ligure ma anche toscano conoscerà il paesino di santo stefano di magra che appunto portando il nome di questo santo ed essendo anche vicino a noi questo paese anche noi siamo in festa e allora iniziamo tutti insieme questo momento di preghiera chi rie e chi rie e lei son chi rie e chi rie e lei son christe christe e lei son chi rie e chi rie e lei son chi rie e chi rie e lei son chi rie e chi rie e lei son gloria a dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal signore noi ti l'odiamo ti benediciamo ti adoriamo ti glorifichiamo ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa signore dio chi rie e chi rie e lei alessandrini e di quella della cilicia stefano ti ripetendo il mio figlio è chiamato sauro e la pittava uno stefano che pregava e diceva signore gesù accogli il mio spirito poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce signore non imputare loro questo peccato detto questo morì parola di dio rendiamo grazie a dio alle tue mani signore affido il mio spirito insieme alle tue mani signore affido il mio spirito alle tue mani alle tue mani affido il mio spirito tu mi hai riscattato signore dio fedele esulterò e gioirò per la tua grazia perché hai guidato alla mia miseria alle tue mani alle tue mani signore affido il mio spirito liberami dalla mano dei miei nemici e dei miei persecutori sul tuo servo fa splendere il tuo volto salvami per la tua misericordia alle tue mani signore affido il mio spirito alleluia 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 benedetto colui che viene nel nome del signore il signore dio egli ci illumina alleluia 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 dal Vangelo secondo Matteo gloria gloria a te o signore gloria a te o signore alleluia alleluia e ai pagani e quando vi consegneranno nelle loro mani non preoccupatevi non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire non siete voi non siete voi infatti a parlare ma è lo spirito del padre vostro che parla in voi il fratello darà a morte il fratello e il padre il figlio e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire e sarete odiati da tutti a causa del mio nome ma chi persevererà ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato lode a te o Cristo lode a te o Cristo ricordo domani 27 dicembre le letture San Giovanni Evangelista 28 dicembre i santi innocenti il 29 dicembre letture del giorno 30 dicembre alle 11 le letture della Santa Famiglia e il 31 dicembre ultimo giorno dell'anno alle ore 18 le letture di Maria Santissima Madre di Dio e terminato il Vangelo faremo tutti insieme il canto del Tedeum per il ringraziamento dell'anno e ora terminiamo con il canto Chiesa di Dio Chiesa di Dio popolo in festa alleluia 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 Chiesa di Dio popolo in festa canta di gioia canta di gioia il Signore con te Dio ti ha scelto Dio ti chiama nel suo amore ti vuole con sé spargi nel mondo il suo Vangelo seme di pace di bontà chiesa di Dio chiesa di Dio popolo in festa alleluia alleluia chiesa di Dio popolo in festa canta di gioia il Signore con te chiesa di Dio chiesa di Dio chiesa di Dio con te chiesa man bellissimi Buona giornata a tutti!